Videorun.it, benvenuti Martina, nuova edizione, nuova emozione, soprattutto grazie al successo che abbiamo avuto nella prima opportunità, nella nostra prima proposta, il sondaggio concorso innovina il tempo, questa volta lo colleghiamo agli amici di Sariano, alla 10 di nove della Corriamo Sariana. Sì, gli amici di Sariano giustamente hanno visto la partecipazione e l'interazione che c'è stata ovviamente nel caso della mezza maratona della Reggia-Reggia, anche a noi è fatto molto piacere vedere tanta attenzione e siamo felici di riproporlo anche per Bersaliano. L'epodica, adesso lascerò la parola a Martina che è quella più tecnica della cosa, io voglio invitarvi come sempre ad esprimere il nostro pronostico. I maschietti solo il tempo devono cercare di indovinare o di avvicinarsi il più possibile al tempo del vincitore in campo maschile, le femminucce in campo femminile. Quindi mi raccomando, non vedete come spesso è capitato nella prima volta, nella prima edizione che nonostante le regolette che vengono ben esposte, i maschietti non devono dare il voto o per meglio dire esprimere il loro parere sul tempo finale della prima donna, solo per i maschietti, le femminucce solo per le femminucce. Non importa il nome del vincitore, non importa il nome della vincitrice, importa solo il tempo. Sì, ci tengo anche a specificare, mi raccomando, anche se è vostra moglie o la vostra compagna la vostra fidanzata a voler esprimere il pronostico, non fatelo attraverso il caso di Facebook, attraverso il contatto di vostro marito, del vostro compagno e del vostro fidanzato, perché comunque non possiamo prenderlo in considerazione. Per quanto riguarda le modalità, molto semplicemente le stesse che abbiamo utilizzato per la mezza Maratona della Leggia-Leggia, Facebook, fate un piccolo commento sotto al post che vi presenteremo e il commento con il tempo naturalmente, per i maschi quello del vincitore, per le femmini quello della vincitrice e senza nome e cognome perché tanto vedremo tutto dal vostro contatto Facebook appunto, a meno che non avete nomi particolari strambi. Per quanto riguarda invece coloro che non hanno il proprio profilo Facebook, basterà contattarci al 342 12 70 236 per mandarci un whatsapp oppure un messaggio telegram e dirci il pronostico con in aggiunta anche il vostro nome e cognome. Ed è bello sottolineare che questa volta, oltre alla bella collaborazione che si conferma del capitano Sciolumi, il capitano di San Giuseppe Vesuliano, mi raccomando Sciolumi, il capitano di San Giuseppe Vesuliano, abbiamo anche la stessa collaborazione dell'organizzazione degli Amici di Saviano. Perché questo cielo di Damartino, oltre al fatto che si ricorda il numero di telefono che è ridotto che io non ricordo. Ho fatto il nome, è vero, sono sincera. Allora, per quanto riguarda gli Amici di Saviano hanno messo in palio, sia per il vincitore che per la vincitrice, un pettorale gratis per l'edizione 2019. Perfetto. Poi in palio ci sarà ovviamente la maglietta del capitano per i maschietti e invece per le femmini ci abbiamo una fascia tecnica con un cartello, più corto, più corto. Quindi doppio premio, mi raccomando. Quindi potrete magari vincere già il pettorale per la prossima edizione della Corriamo Saviano. Noi naturalmente ci evitiamo di dare il nostro conosco, lo dico sotto voce a Martina. Non dira nessuno, mi raccomando. Sono proprio dei maschietti. Martina sarà co-speaker. Sarà, non gareggerà, ma sarà al vostro passaggio, anzi due passaggi intermedi. Avremo anche un collegamento in diretta io dalla zona partenza dico con lei così avremo modo di vivere la vostra gara, la vostra emozione. La corriamo e saliamo assieme. Bontà loro che dovranno andare a vedere pure me al passaggio. video run.it con noi, come sempre, il meglio. Martina, in bocca al lupo anche per questa nuova esperienza a Saviano. In bocca al lupo anche a te, perché ne ho bisogno e in bocca al lupo a tutti voi che parteciperete. Ciao.